Saranno acquisiti in giornata dai carabinieri della Compagnia di Giarra, i nastri delle telecamere dell'Art Discount Fortè di Giarra, dove sabato sera intorno alle 19.02 malviventi hanno portato a segno una rapina. Solo oggi, infatti, il tecnico del punto vendita si è reso disponibile a fornire le immagini registrate dentro e fuori il supermercato che immortalano l'arrivo dei due uomini, entrambi con il viso nascosto da passamontagna e poi la successiva fuga. L'azione è durata pochissimi minuti. Uno dei rapinatori ha fatto il suo ingresso pistola in pugno ed ha spianato l'arma contro uno dei dipendenti addetti alle casse, ordinandogli di consegnare tutto l'incasso. Una volta ottenuto il contante, una somma pari a 350 euro, i due hanno lasciato il discount, fuggendo a piedi lungo la via Gramsci. Un testimone ha raccontato di averli visti imboccare sempre a piedi la via Almirante. Ad attenderli in quella strada c'era probabilmente un complice a bordo di un'auto. Nonostante le tempestive ricerche dei militari dell'arma giunti pochi minuti dopo, i rapinatori sono riusciti a dileguarsi. L'analisi dei nastri del sistema di video sorveglianza si spera possa fornire qualche elemento utile alla loro identificazione.